Ben consapevoli, Cerchio K attraverso Marco a cura di VB domanda Che tipo di pensiero dobbiamo avere per facilitare la comunicazione con voi? Guida psichica, unicamente pensieri indirizzati allo strumento. Dovete pensare di essere uno, di essere una catena, quindi dovete spersonalizzare il vostro pensiero e collettivizzarlo, capisci? Indirizzando raggi verso il complesso della catena e quindi verso lo strumento che ne è centro. Questa è una cosa graduale, non può avvenire dall'oggi al domani, ne siamo ben consapevoli. Grazie.